ciao a tutti oggi illustreremo la funzione cuoci uova preparando le uova alla cocco con il bimbi tm6 è possibile cucinare da 2 a 6 uova anche fredde di frigo non è necessario per la cottura utilizzare il cestello basta semplicemente aggiungere un litro d'acqua selezionare il tipo di cottura desiderato tra le varie cotture alla cocco con tuorlo liquido e albume parzialmente morbido barzotte con tuorlo liquido e albume compatto medie con tuorlo parzialmente morbido e albume compatto sode con tuorlo molto compatto ma non sodo e albume compatto ben sodo con tuorlo e albume completamente sode al termine della cottura ci aiuteremo col cestello per scolare le uova selezioniamo la funzione cuoci uova mettiamo all'interno del boccale noi ne faremo quattro le uova versiamo un litro d'acqua chiudiamo con il coperchio e il misurino a questo punto selezioniamo noi la funzione uova alla cocco cottura alla cocca noterete che il bimbi non sta facendo alcun rumore perché le lame sono ferme ma comunque sta cucinando inizia la temperatura a salire la cottura prosegue siamo quasi al termine le uova alla cocco sono pronte scolarle con l'aiuto del cestello e sciacquarle immediatamente sotto l'acqua corrente fredda per interrompere la cottura la cocco è pronta facciamo vedere la consistenza perfetto funzione cuoci uova grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti